Questo ragazzo lo volevo portare con me a Fara San Martino 3-4 anni fa quando era piccolino e passava a Corso Roma con la mamma, con il papà che conosco da tanti anni è stata una mia bellissima scoperta perché è un ragazzo che si è sacrificato tantissimo è diventato durante la stagione il mio motore del centrocampo un ragazzo che si è sacrificato e migliorato tantissimo e si è diventato il giocatore Luca Rulli ragazzo meraviglioso è stato in panchina tutto il campionato dovrebbe odiare il mister in un modo incredibile perché è sempre in panchina ma ha delle qualità tecniche veramente impressionanti un ragazzo 2003 che mi piacerebbe allenare anche in futuro perché ha delle qualità incredibili ama la palla in un modo spettacolare ora deve imparare con me e lui ad amare il campo perché purtroppo nel calcio si corre e non si può amare solo il pallone e non si può amare solo il pallone e non si può amare solo il pallone non si può amare solo il pallone nonostante che il pallone è un grande giocatore ma lui con me è diventato un giocatore duttile che sa fare tutto è stato impiegato in più ruoli in un ruolo massacrante che il padre sicuramente non amerà però Presidente questo è in quadro Presidente 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 Comunque un giocatore duttile che in tutti i campionati è sacrificato in un ruolo che non tutti amano però lui da grande giocatore che è e da grande uomo che sta diventando è diventato una forza di questa squadra Gianluca Malvone ragazzo all'è non me ne vogliono il viaggio perché non me ne vogliono